Tra le macerie di questo tempo, cavalcanzoni e le speranze sopra quei volti Di tanti piccoli indocenti, vedi vittime di guerra, vedi vittime dell'oggi Tu non pensare che sia lontano, tu non voltare lo sguardo altrove Perché qui la guerra è proprio in mezzo a noi Nei tanti sguardi spenti, nei tuoi silenzi complici Ma per te ucciderei la speranza di credere Che un giorno poi la pace si rinascerà Sopra le macerie sventola, la bagniera piocca Sopra le macerie sventola, la bagniera piocca Vittime di guerra, vittime dell'odio, basta guerre fra di noi Porta quella piaccola di pace al mondo Accendi amore in ogni cuore Tu non pensare che sia lontano Tu non voltare lo sguardo altrove Ascolta il grido di dolore Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro soldi Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro soldi Aggrappati ad una bambola Porta e stringo fra le braccia Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro soldi Ti voglio bene sempre di più E poi volerà, poi volerà, poi volerà, poi volerà Ascolta il grido di dolore E poi volerà, poi volerà, poi volerà Giallo semaforo, occhi rucenti Cosa vuoi dire oggi alla gente? Cosa vuoi dire oggi? E poi volerà, poi volerà, poi volerà Cosa vuoi dire oggi? 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 e quindi come già ho detto in altre circostanze a Natale per le tradizioni importanti che voi riuscite a mantenere ancora nei nostri comuni piccoli dove siamo sempre di meno però voi ci fate sentire sempre di più e anche in questi momenti grazie pure alla signora Ginocchio che ci ha trasmesso questo importante segnale e ha fatto sì che questo ricordo, questo momento possa entrare nelle vostre menti tramandandole anche alle persone vostre età che stanno a casa quindi grazie ancora dell'invito e grazie e complimenti a voi tutti che avete organizzato questa giornata grazie sindaco Agnese per intervenire allora la pace è gioia e allegria a quelli più grandi diciamo che la pace è confronto dal punto di vista cristiano si direbbe forgere l'altra guancia dal punto di vista della vita quotidiana diremmo confrontiamoci perché il torto ricordatevi sempre ragazzi grandi sta sempre da entrambe le parti e quindi nelle nostre azioni quotidiane prima in famiglia poi a scuola nel pomeriggio negli ambienti che frequentate poi nel nostro paese a Castello abbiamo la necessità di essere costruttori di pace a San Grevaro prima ci hanno ricordato una cosa bella stavamo io il maresciallo e Agnese hanno letto due frasi molto belle una di San Francesco e una di madre Teresa di Calcutta che non dobbiamo leggere dal punto di vista religioso le dobbiamo leggere dal punto di vista dell'uomo impegnato nella società quindi del giusto cittadino i bambini della primaria prima ci hanno ricordato che l'articolo condice della Costituzione che cosa dice? L'Italia ripudia la guerra ma la guerra non la dobbiamo pensare lontana da casa nostra la dobbiamo pensare quando noi siamo scortesi nei confronti dell'altra persona che c'è di fronte quando noi litighiamo senza capire il perché e non ritorniamo soprattutto sulle nostre posizioni questo lo dico soprattutto agli adolescenti quindi la cosa che vi invito oggi è che questa bellissima parola pace poi avete cantato una delle canzoni penso simbolo del messaggio di pace in tutto il mondo, il Magen è una canzone nata in un contesto in cui la guerra era una guerra davvero per quegli anni dopo la seconda guerra mondiale una guerra che aveva testato lo scalpore in tutta l'umanità come quella che stiamo vivendo oggi voi non avete ospitato bambini che venivano dall'Ucraica, io lo dicevo prima io ho ospitato in quell'anno nel 2022 dei bambini scappati dall'Ucraica i bambini di cui i padri o erano affronti a combattere o erano nascosti oppure erano morti per salvare la loro paura quindi il messaggio è questo, cercate di essere intelligenti nelle vostre azioni bimbi piccoli avete capito? se fate un dispetto a un compagno oppure se ricevete un rispetto da un compagno cercate non di rispondere con un altro dispetto ma di cercare di capire insieme a compagno protagonista di questo dispetto perché è nata la questione per fare questo dispetto vi sono spiegata quindi l'importante è confrontarsi perché quello che chiede il Papa, quello che chiedono le istituzioni, quello che chiede l'Ono è proprio che tutti si mettano al tavolo a discutere per trovare la strada verso la pace ma noi quotidianamente come la facciamo a vivere questa pace? essendo degli ottimi cittadini dei cittadini che ragionano con la propria testa e dei cittadini che si confrontano se c'è qualche problema quindi questo è l'augurio che io faccio a voi e oggi, adesso che cosa facciamo? posiamo tutti i palloni, i palloni li posiamo qui tutte le coppie le portiamo le scritte e andiamo fuori a piantumare questo albero così negli anni a venire poi metteremo delle pietre ogni anno in una giornata in modo che noi ricorderemo questo momento e lo ripeteremo per i bambini che verranno nel rossino grazie, allora adesso copriamoli stragi, attentati, terrorismo, criminalità violenza e mafia e nel mondo dai 100 anni ad oggi aggrappati ad una bambola uuuuh forte stringo fra le braccia uuuuh piccoli nascenti piango io uuuuh pagano peso amaro ma dalle loro lacrime ma dalle loro lacrime un fiore nascerà un fiore nascerà fissime di guerra e fissime dell'odio A sta guerra è fra di noi Porta quella piantola di pace al mondo Scendiamo lei da ogni cuore